Sorpasso o a lungo? Il derby tra Benevento e Casertana può avere un peso importante per la classifica per entrambe le squadre. I giallorossi, regenerati dalla cura Auteri, arrivano da due vittorie consecutive. Il tecnico siciliano dovrà fare a meno dello squalificato Ciano e dell'indisponibile Meccariello. Dubbio in porta compare Ali febbricitante se non dovesse farcela. Spazio Manfredini, in difesa a Terranova, potrebbe prendere il posto di Capellini. Recuperato in proda a centrocampo che giocherà dall'inizio, accanto ad Agazzi dovrebbe esserci Italia. In avanti esordio dal primo minuto per l'ultimo acquisto starita con Ferrante e Bolsius. La Casertana di Cangelosi deve riscattare il KO di domenica scorsa contro il Messina e difendere i due punti di vantaggio in classifica. L'allenatore rosso-blu non avrà lo squalificato Montalto, indisponibile anche Cieliento. A centrocampo dovrebbe giocare Damian al posto di Casoli. In avanti pronto il tridente composto dall'ex carretta, dal Beneventano Cuccio e da Tavernelli.